Ehi la ciurma, io sono Mercedes, benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Roaming, il gioco dove non si capisce come andare dall'altra parte del mare. Cioè adesso cosa fa? Viaggia così? C'è alcun caricamento? La nave che appare dal niente? Questo vuol dire cosa mi sta a significare tutto questo? Finora ho solo dato dei punti positivi a questo gioco, ma questo è completamente senza senso. Qui perché c'è un caricamento? Cosa stiamo facendo adesso? C'è una cazzin? Ci vorrà un po' per portare le legioni in Asia. Adesso si fa scatto, ho modificato la grafica. Ma come dobbiamo spostare la legio Victrix? L'abbiamo appena dimossa. Sì, è concordato. La task di prendere il nostro passaggio di Calcadon sarà a te. Scruita inizia con gli speculatori e usi Victrix per pacifire la provincia. Io seguo con Legio Prima Italica per aiutarti a guardare il territorio che ti prendi. Ok. Dobbiamo scoprire un po' meglio la situazione politica prima di invadere. C'è un plan dico, ma la situazione precaria di Cotta non ci lascia molto tempo per usare precauzione. Ok, dobbiamo imparare ma non andiamo avanti. Ok, ha una forza troppo, cioè troppo forte da solo. Ok, dobbiamo riportare da nostro lato quelli che si sono schierati con Mitridate per aiutarci. Beh, è sempre molto... Infervorato, eh, bestia, questo traditore. Ah, un tizio chiamato Cassio. Come fa ad aversi fregato? Ah, potrebbe essere sparigliato da Mitridate per aiutarci. Ah, potrebbe essere sparigliato da Mitridate per aiutarci. Perchè l'abbiamo scoperto? Ha stato scoperto dopo l'ambuscio, ma un pesante locale ha dimostrato a portarlo alla regione. Si parla la lingua locale e ha una famiglia in Lesbos. Ah, ok, va la famiglia Lesbos, in più è sparito e l'hanno portato... Ok, vediamo cosa scopriamo. Ok, non ci serve morto. Ok, non ci serve morto. Ah, ecco, dove è andato Calidus? Pensavo che apparisse dal nulla mentre stavamo parlando. Andrò a cercarlo. Ah, ha suddito di noi tutto il tempo. Ehm, niente, andiamo a cercare Calidus. Ah, eccolo. È molto pallido. Ah, fa fatica a togliersi la cotta di maglia. Cioè, aiutiamolo. Eh, si oppone un po' al tuo aiuto e cerca di parlare. Ma si sposta all'improvviso e vomita in mare. Si siede, ma là... Cioè, non sta bene, però d'ora sta un po' meglio. Senza l'armatura però ti rendi conto abbastanza facilmente del fatto che abbia una forma femminile. Ehm... Dovrei forse chiamarti Calida? Pluto, prendi questo, Cygnus. Questo non è il momento per parlare di questo! Che Pluto si porti via questa malattia, non è il momento di parlare di quello. Stai tranquilla, l'ho visto abbastanza presto quando ci siamo incontrati. È una voce molto femminile. Ehm... Immaginavo che tu te le fosse accorto ma non l'hai capito perché non l'hai tirato fuori. Io non volevo portarti nella mia decepzione. Solo volevo dare un po' più tempo per ottenere la mia fiducia. Ok, non volevo pregarti ma volevo solo che ti fidassi, cioè di guadagnare la tua fiducia prima di dirlo. Ehm... Questo fa salire la mia stima per te perché devi aver superato molti stacoli per arrivare così in alto. Non... non mi dici quel tono di perdita. Tutti gli obiettivi che ho avuto l'ho conquistato come un uomo. L'unica parte più difficile era non essere scoperto. È tempo che vi incontraste. Oh, per fortuna. Stavo proprio pensando in come avrei potuto discutere di questo con te. Non ti avrei mai chiesto di mentirgli. Lo sapevo già. Ehm... Chi arriva di altro? Ok, neanche lui è stupito. Lui non lo sapeva. Ma che cavolo di maschilista è il cavolo. Cercherò di prenderlo come un complimento, brava Calida. Ehm... Ok, lasciamole un po' di spazio. Va bene. Avremo tempo di parlarne più tardi. Grazie, Legate. Ehm... Sorry, l'ho mentito. Mi spiace di aver tienti mentito. Ok, ci chiedi di mantenere con noi. Lei vuole restare. Ehm... 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 Cioè... Perché era in discussione la questione? Il fatto che sia una donna che sia così in gamba? Cioè... Tanto meglio, no? Ehm... Ehm... Ma come ti ci lascia chiacchierare? Ha finito tutto? Cos'è... Niente. Ci lascia chiacchierare? Ma noi non lo sapremo. Chiacchierano da soli in intimità. Nessuno di noi era stupito, no? Che fosse in realtà Yulia. No? Aveva una voce forse un po' troppo femminile. Potevano scegliere un doppiaggio un po'... Meno evidente. Poi l'hanno mostrata tutto il tempo. Anche se erano letto troppi Development Diaries. Cioè... C'era tipo sempre Yulia Calida. Per cui... Ehm... Quindi noi possiamo teletrasportarci nel male così a caso. Ue, 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 ue... Dove è andato? Ehi? Oh, oh, oh! Questi scatti? Avevo scoperto una tannerie. Oil jarred... Lose coin. Ok. Ma... Ah... Qua la tannerie. La tannerie ci serve per? Chi ci serve la tannerie? Ehm... Ehm... Cosa che abbiamo qua? Ah, no. Ci ha cambiato cose. Ah, dobbiamo andare a tross per cercare di Cassius. E... A divide and conquer. Questa prima. Però... Ehm... non è pacificato. Quindi cosa devo fare io? Ehm... Cosa... Devo esplorare? Tipo? Avevo trovato un buon post per mettere l'outpost. Clicca per mandare... Ehm... Misia e cattura la regione. Qua hai preso la regione Mitilene. Ah, ok. Però io vorrei un attimo prima... Ah, anti... Ah, qua posso... Dispatch ma no. Qua posso Dispatch ma no. E però andiamo qua. Per dice di andare a parlare con il... Re di Misia. Non voglio andare ad attaccare Misia se non fosse necessario. Allora, c'è un tempio. Ehm... Ok. Al dio delle cure, della conoscenza... E' estremamente importante. Allora, prendiamo. Tutti. Allora, lui ha l'accampamento. No, no, no. Ah, posso portare uno di più? Ma in realtà no. Perché... Cioè... Lui si sta occupando della gente. E la gente serve sempre. Adesso poi reclutiamo della gente. Poi dopo diventiamo più forti. E abbiamo della gente migliore. E tutto... Via, no? E dai, eh. Sono dei caricamenti molto più veloci. Ma... La cosa triste è che rimangono al cento per cento per dieci secondi. Cioè, fanno da zero a cento in un secondo. E poi per dieci secondi stanno completi con te che dici, ma... What? E' finito? E' finito? E' finito? Cosa stiamo... Cosa aspettiamo? No, io devo guardare di là. Cosa aspettiamo? Tipo adesso? Cosa stiamo aspettando? Su serio? E vi faccio vedere. Falvi vedere il suo Tempio di Apollo, dai! Dai! Un po'... Un po' di tempo di... Tempio di Apollo? Facci vedere un po' di tempio! Eccolo! Che arriva! Lo schermo nero! Bellissimo! Dai! Wait for it! la cazzina tempio di pollo sulle montagne di misia beh ben tenuto se non andasse così tanto a scatti scusate ma io gli ho messo opzioni grafiche le avevo abbassate ma mi sa che non è cambiato niente se io gli metto ultra ma gli tolgo il v-sync e avete letto dice window mode scegli la tua modalità con la finestra durante la stagione delle zanzare ti consigliamo di tenere le finestre chiuse ok provo a rimetterlo in borderless window a borderless window lo mette in risoluzione più bassa proviamo a vedere che succede perché mi pare che l'inizio non fosse messo così male come situazione visiva per cui mi sembra che sia quasi peggiorato se possibile ma what mettiamo a 30 frame rate e mettiamolo a medio come prima più o meno non è che sia tutta questa Alexios ciao cosa ci dice Alexios perché si è ancora aperto questa una notte ah insomma ok ha spoilerato il finale cosa che devo dire è un deus ex bacchina nel modo in cui finivano molto spesso le commedie all'epoca c'è scende la divinità proprio scendeva ah già stava chiudendo è giusto vendi anche dei materiali ma sei un fabbro o un prete? ah ok è un prete di efesto è la mia visione che in order to pay full and proper tribute to efestus glitotechnis one must practice at least one of his craft I endeavor to practice them all beh tanta roba oh mi fa sentire davvero proprio immerso nell'epoca comunque con queste cose qua ogni tanto no perché c'è quello di oh gli spoiler però hai detto che questi sono fatti da artigiani locali però quindi non sono le tue creazioni ah non vede nulla di quello che crea ah appartiene al festo quello fa lui ah ma lo dà gratuitamente a quelli che hanno avuto bisogno va bene cosa fai qui nel tempo di apollo se tu preghi sei il prete di efesto? assolutamente ci sto mi piace un sacco questo tizio il mio nome è Julius Sempronius Mazzetesco come posso chiamarti? io sono chiamato Voithos il tuo nome ti marca come un person di grande distinzione è vero perché abbiamo tutti e tre i nomi ah tools to replace my pila posso comprare ah no sono dei sono proprio dei tools javelin tools non so cosa servono per cui non compro roba che non so cosa servono chi è che si è seduto qua nel mentre? ma no mentre aspettano si sono seduti là e quelli ballavano what? cosa ho appena visto? loro due erano qua a ballare con gli altri seduti? ma sono le animazioni di idol più belle della storia? ma dai ma questo gioco è una cosa geniale a parte il disco cioè ti mettono i tizi che ballano e poi non ti spiegano come andare in Asia minore vabbè ancora un altro discorso e se andiamo qua sentiamo qualcosa che dicono no non tutti parlano ovviamente qua c'è qualcuno con cui parlare però pigress l'uomo vecchio che accanto a te è l'istruttore di uomini l'uomo vecchio che accanto a te è l'istruttore di uomini Sina rossa è un eufemismo com'è eufemismo? è un eufemismo al contrario che la mia vita passata è una distruttore di uomini il distruttore di uomini da alicarnasso? tu Sineros? ti chiedi al tuo maestro che non combattavo per sport più di più si che è vendetta? ho tantissime domande anch'io? era il tuo nickname? mancrusher? Sineros? io ero un wrestler ero abbastanza buono io rappresentavo la mia famiglia alicarnasso nelle Olimpiadi mi rappresentavo alicarnasso alle Olimpiadi Suo nonno? rallenta un attimo e spiegami chi sei Deodorus son di Diocles son di Deodorus spearthrower e pancrazion il campione di cross Deodorus sei il suo grandchild è è ancora vivo Deodorus? il grifo lo ha diventato in un husk di un uomini che prima era ma in realtà è ancora vivo che è ok non è che combattavi per sport Sineros? deve essere venduto come schiavo era un giocatore di Pancrazion anche lui fino a che mio grandfato ti faceva e tu avevi chiesto per proteggere la tua famiglia e la fortuna ha dovuto barare spiegami cos'è il Pancrazion ma in realtà lo so cos'è il Pancrazion è un tipo di wrestling molto popolare su Aegai Umari una delle competizioni definite nelle nostre Olimpiadi tu eri un gladiator tu non sembrava come un gladiator come hai fatto? era un tempo fa e non ero un gladiator ero un atleta ero un atleta competendo nelle Olimpiadi ho visto i cittadini che combattono in l'arena tu hai competito per un prezzo in una sorta di arena come un gladiator sono il suo padrone adesso fai le tue accuse tu sei romano? sei romano? sai che quando una persona è stata vera si sono entitativa a vendicare sai che quando una persona è stata che gli è stato fatto un torto possono vendicarsi non funziona esattamente così e le leggi romane si applicano solo ai romani non importa se i vostri leggi si applicano a me o non sei famigliato con il concetto di reciprocità è quello che importa sì siamo famigliati con il concetto di reciprocità Sineros il mancrusher di Halicarnassus ha scusato l'Olympic inoltre di affrontare il mio grandapè Diodorus in un contesto di pancrasi ha rubato il premio posso sfidarsi sfidarsi ha rubato solo una volta quindi questa non era un'ambitudine ha rubato davvero il premio Olimpio quindi potrebbero combattere di nuovo per vedere chi se lo cava ok ma Sineros contro un Pigras professional wrestler in suo prime Sineros comunque formidabile è un vecchio non ha una chance contro Pigras è un'ambitudine se sei vero Canturio ma cosa è? potrebbe questo è come si deve essere questo è come ho finalmente pagato i miei crimini vabbè si vuole rappresentare Sineros perché ti combattere non sei una parte in questo conflitto è Sineros che ha committuto l'offenza è Sineros che si combattere cosa ne pensi di questo questo è il mio combattere il mio crimine per assicurare ma se Bestia insisti io accettare io farei combattere comunque Sineros perché darà ragione al ragazzo e poi il ragazzo resterà sempre incavolato anche se perdesse contro Bestia se questo è sicuramente non è Pigras il combattere ma è mio combattere stai a lì let us begin show me what you know pigras what adesso get up old man show me if there's still anything left of the man crusher in you hai la presa di brutto il tuo grandfattore ti ha trainato bene aia dai ma adesso c'è massacra di brutto aia alzati sineros puoi farti non puoi più combattere questa sarà una mia decisione se lo porterà se verrà qua o meno mi spiace che gli ha rotto il braccio se l'unica cosa e niente prego pronto ok ci vediamo nel prossimo episodio raga mi spiace persino rosso un po' ci hai cercato se davvero ho rubato il premio delle ripiede posso combattere contro il nonno ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata mi spiace mi spiace mi spiace Grazie a tutti.